ciao ragazzi bentornati video interessanti il momento degli operatori mobili c'è chi si ferma c'è chi che attende chi guarda ci sono veramente dei movimenti interessanti grazie a voi che siete super tecnicamente fantastici nuovo canale telegram e gruppo gruppo libro potete vedere nickle messaggiare tutti quanti canale che invece per le notifiche video in anteprima da lì potrete vedere tutto quello come questo video e il link dei video e quindi le notizie tutto quanto arrivarci in anteprima me l'avevate chiesto di aprire dei canali telegram eccoli il canale dalla parte degli utenti ciao damiano fusaro uno degli utenti più veloci degli ultimi video ma poi anche tramite canali telegram tenderò a salutare più persone possibile e essere sempre presente rispondere sempre a tutti nei limiti del tempo anche su telegram perché tra lavoro e tutto insomma si cerca di arrivare voi continuate a scrivere che vedo che ci sono delle notizie interessanti che portate ma la notizia che voglio dare in questo video è il momento in cui è un po particolare in cui c'è vodafone con la sua unlimited uscita la sua tariffa illimitata team che vuole rilanciare la tariffa 50 giga 5 euro con le chiamate illimitate ilia de che sta attendendo con una freddezza incredibile nuove mosse sue e guarda quelle degli altri senza nessun tipo di problema incrementa ancora di le nuove attivazioni sim h3g che lancia 9 90 60 giga le chiamate illimitate cerca di resistere quindi un momento in cui si sta muovendo qualcosa dove ognuno cerca di portare l'acqua al suo mulino un momento abbastanza diciamo di ferma tra virgolette barra attesa no l'unica che ha fatto un passo un po più in avanti questo è vodafone lanciando la unlimited plus chiaramente con questa illimitazione anche sui giga con un prezzo un po alto anzi molto alto che però è la prima tariffa illimitata quindi una vodafone partirei proprio da vodafone che parte con questa tariffa illimitata che qualcuno ha già attivato mandatemi su tutti i canali appunto telegram facebook pagina facebook telegram mandate le vostre impressioni su questa tariffa che è veramente è una tariffa interessante per i contenuti un po meno per il prezzo ma è sempre comunque da premiare come gesto di essere la prima tariffa illimitata secondo operatore che fa una una sua mossa e team rilancia la tariffa da 5 giga 50 giga chiamate illimitate a breve mi è arrivata la notizia che dovrebbe far ripartire le attivazioni sempre dai provenienti da ilia dei virtuali eccetera per cercare di recuperare un po di terreno queste sono sono le notizie che arrivano anche dal fonte di vista team quindi il rilancio della tariffa con i 50 giga le chiamate illimitate interessante non interessante sta deciderlo voi ne avevo già parlato di questa tariffa dei vincoli non sono entusiasta però a 5 euro comunque con 4g e 4g plus di team potete avere le chiamate illimitate e i 50 giga che comunque possono sempre interessare a molti a molti utenti quindi una team che cerca di rivangare la stessa tariffa portare via utenti agli altri di difendersi di recuperare i tanti clienti che sta prendendo cioè di combattere anche questo arrivo di vodafone con la limited plus che sta cercando di strappare a tutti gli altri o di attivare nuove utenze con questa tariffa che porta fatturato poi nelle tasche di vodafone perché ha una battuta molto altra mentre team con una battuta un po più piccola tenta battuta in termini di prezzo 5 euro di portarsi a casa altri clienti 3 cosa fa h3 g a 9 90 questi 60 giga con le chiamate che non è un prezzo plus perché gli altri hanno anche dei prezzi un po più bassi però cerca di buttare fuori tramite la linea fissa 5 euro da tutto l'illimitato ricordiamo la h3 g wind 3 chiamiamola wind 3 da quando si è fuse così abbiamo il termine giusto tenta di recuperare clienti tramite la linea fissa e dare l'illimitato chiaramente però se siete clienti con la linea fissa arriverete ai 25 euro più 5 siete sempre a 30 euro al mese allora uno dice ah ma 30 euro al mese posso fare anche la limited plus ma quello è solo mobile mentre qua avete anche la linea fissa inclusa però là c'è la rete vodafone a quasi lo stesso prezzo qua c'è una rete inferiore quindi sono tutti discorsi un po tecnici no voglio dire però dal punto di vista del mobile cerca di difendersi con qualche tariffa sui 7 euro con l'illimitato le chiamate 30 giga i c 60 giga 9 90 con io la capisco quella tariffa ha messo 10 giga in più degli altri con due euro in più per cercare di equiparare il prezzo però cerca di andare a recuperare un po più di costo cioè metti 9 99 però ti do i 60 giga secondo me è una gran mossa faceva prima fare allora al stesso prezzo di ilia da 7 99 le chiamate limitate coi 50 giga e non con i 60 per intenderne una arriviamo al punto punto iliad iliad invece lì bella tranquilla con la sua ultima 7 99 chiamate limitate 50 giga non fa una piega guarda gli altri e incrementa del 10 15 per cento le nuove attivazioni di sim senza fare nulla di nuovo tranne la tariffa per i non utenti scusa per i non vedenti e i sordomuti ovviamente per le persone meno abili che era una cosa a parte l'ultima tariffa era la voce alla sua 7 99 non ancora arrivato lo switch lo stiamo attendendo ma io sono sicuro che si potrà prima o poi passare la tariffa da 7 99 dalle altre in qualche modo la promessa india della manterrà ma con questa tariffa da 7 99 senza vincoli chiara sta comunque tenendo benissimo e incrementa del 10 15 per cento le nuove attivazioni figuriamoci se spara fuori qualcosa di nuovo e sta per arrivare qualcosa di nuovo attenzione ragazzi tariffa iliad in arrivo prima di fine anno e sono tariffe molto interessanti ce ne sarà una mista che incrementerà forse più giga con le chiamate e una soprattutto dati che andrà un po a dico a fare l'illimitato ma dare fastidio a quella di vodafone perché non penso che gli da far subito una tariffa illimitata a 20 euro quello è il sogno è quello che ci aspettiamo e che potrebbe realizzare senza vincoli iliad ma sicuramente una tariffa sui 100 120 giga a un prezzo molto interessante potrebbe essere la prossima tariffa di iliad e sarebbe veramente un colpo da maestri e siccome loro tirano fuori sempre col colpo due a sorpresa io mi aspetto delle belle sorprese intanto gli altri lavorano vodafone unlimited team continua col suo 5 euro a cercare di fare qualcosa 3 cerca di attaccarsi ai denti tra la linea fissa illimitato i 60 giga quelle chiamate limitate a 9 90 iliad è libera tranquilla che attiva ancora il 10 15 per cento di utenze in più pur rimanendo ferma con la sua 7 99 quindi un mercato che sta attendendo che qualcuno faccia la mossa e siccome quel qualcuno è sempre iliad e gli altri intanto cercano di difendersi e attendono la prossima mossa che iliad farà che non tarderà ad arrivare però questo ha smosso bene tutto abbiamo tariffe interessanti a prezzi più bassi convenienti e soprattutto vodafone con la limited vedete che bel mercato che si incomincia a muovere figuriamoci con l'arrivo di plintron in primavera che è lì che scalpita per entrare dentro beh ne vedremo sicuramente delle belle a breve vi poi girerò e posterò il video sulle televisioni voglio darvi tutte le televisioni col prezzo migliore del web del negozio fisico nei pollici dai 32 65 per voi soprattutto anche perché andiamo verso finale come regalo o se volete regalare voi o led 4k led tutto quello che può concerne le televisioni sarà un video veramente tecnicamente fantastico lo preparo a giorni arriva poi ulteriori video verranno poi elencati nei vari canali che adesso ci sono buon divertimento a tutti vi raccomando l'educazione su telegram vedo che siete tecnicamente educati e fantastici e allora cosa vogliamo di più buona a tutti ciao grazie